Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, dopo aver partecipato all'ottantesimo anniversario della distruzione di Cassino nella giornata del 15 marzo, si è recato a Ferentino per deporre una corona d'alloro davanti al monumento ai caduti dedicato a Don Giuseppe Morosini, il sacerdote buono nativo della città gigliata, fucilato il 3 aprile 1944 a forte bravetta a Roma durante l'occupazione nazista dopo essere stato condannato a morte dal Tribunale tedesco. A fare gli onori di casa il sindaco di Ferentino Pier Giarni Fiorletta affiancato dal governatore del Lazio Francesco Rocca e dal prefetto Ernesto Liguori. Il presidente Mattarella ha dapprima salutato gli studenti presenti all'evento lungo i margini della strada dopodiché preceduto dai carabinieri del reggimento Corazzieri si è diretto verso il monumento per depositare la corona. In seguito il presidente si è recato nella chiesa di Sant'Ippolito dove è sepolto Don Morosini per un omaggio ed una preghiera sulla tomba del sacerdote. Il parroco Don Giovanni di Stefano nipote del religioso martire ha potuto scambiare due parole con il capo dello Stato. Ha poi salutato Giuseppe Virgili cugino 83enne del sacerdote strappato alla vita 80 anni fa che ora vive a Roma.